Salve, mi chiamo Katia e faccio la badante. Vengo da Polonia e sono laureata. In Italia sono da cinque anni e lavoro in nero. Il lavoro riproduttivo è un lavoro quasi invisibile, però i fatti, i dati parlano di per sé. Quasi un milione di lavoratori domestici iscritti all'ins, tra cui la maggior parte donne e straniere. A questi vengono aggiunti altri 200.000 di lavoratori in nero. Con poche eccezioni, la cura dei malati, delle case, dei anziani, i bambini, che lo Stato è incapace di soddisfare, viene che sia esso svolto direttamente oppure tramite un delegato. Comunque è una faccenda tutta al femminile, che però non viene tutelata. Il 14 novembre io ci sarò a scioperare. Ciao! 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 Ciao!